Ciao a tutti! Oggi vi diamo 5 consigli per risparmiare acqua e energia elettrica con la vostra lavatrice. Lavatrice a basso consumo, lavatrice a pieno carico con programmi brevi, temperatura intorno ai 40 gradi, no al prelavaggio e lavaggi nelle ore notturne. Prima di tutto se devi acquistare una nuova lavatrice scegliene una a basso consumo. Noi ti consigliamo di acquistare i modelli di classe A o superiore, quindi A+, A++, A++++. Utilizza sempre la lavatrice a pieno carico in modo da risparmiare acqua ed energia e quando i capi non necessitano un lavaggio approfondito usa un programma breve. Inoltre ti consigliamo di regolare la temperatura di lavaggio intorno ai 40 gradi che sono più che sufficienti per lavare la maggior parte dei capi. Ricorda infatti che le alte temperature prevedono un consumo energetico maggiore. Evita di impostare il prelavaggio a meno che non sia strettamente necessario perché implica un importante consumo sia di acqua che di energia elettrica. Se hai sottoscritto un contratto di energia elettrica con una tariffa bioraria, quindi che prevede un prezzo al kWh più basso nella fascia serale e notturna, ti consigliamo di utilizzare la lavatrice nelle ore serali e nel fine settimana. Se vuoi ridurre le tue bollette di luce e gas contattaci allo 0294755498 oppure scrivici a bolletta chiacciolaluce-gas.it. Se ti è piaciuto il video metti un like e non dimenticarti di iscriverti al nostro canale.